scala da usare per la mia improvvisazione. Quindi quali sono i passi per individuare la tonalità di un brano a orecchio? La prima cosa è individuare la tonica del brano. Questa è una cosa piuttosto difficile, si può fare soltanto ad orecchio, cioè io devo riuscire in pratica a isolare una nota che è la nota fondamentale del brano. Come faccio? Allora, innanzitutto uno dei primi consigli che ti do è focalizzare l'attenzione sulla parte iniziale della canzone o sulla parte finale, cioè sul primo accordo che senti quando mandi in play la canzone, proprio all'inizio, appena la persona attacca, oppure sull'accordo finale con cui la canzone chiude. Questo perché spesso sull'inizio e sulla fine della canzone troviamo l'accordo di tonica. Cos'è l'accordo di tonica? L'accordo di tonica è quello che ha lo stesso nome della tonica, della tonalità. Quindi per esempio se io ho un brano che è in la maggiore, l'accordo di tonica è l'accordo di la maggiore e molto spesso le canzoni iniziano o meglio finiscono con l'accordo di tonica. Notare che questa non è una regola assoluta perché questo è legato alle scelte dell'autore e l'autore può disporre liberamente le sue composizioni, potrebbe scegliere di partire con l'accordo di tonica oppure no, con un altro accordo, ma statisticamente la maggior parte, io direi il 70% dei brani partono con l'accordo di tonica e il 90% dei brani si chiudono con l'accordo di tonica. Quindi massima attenzione a questi due momenti della canzone, d'accordo? E un'altra cosa che ti dico è di concentrare l'attenzione sulla quella domanda di oggi, questo significa che quando inizia ad ascoltare la naturalità di un brano, devi restare a portare l'attenzione alle frequenze basse, come succede in basso, ok? Se c'è lo strumento, il basso, che parte insieme a tutto il resto, meglio, ascolta che nota sta cercando di produrre il basso. Ma non necessariamente ci deve essere del basso, anche la chitarra potrebbe star suonando una parte di basso. Ascolta il suono della chitarra, cerca di individuare la nota di basso oppure da una tasca. Ciao, allora oggi vediamo il terzo e l'ultimo accello unico dedicato a questa valle dell'interno. E questo è un'altra canzone, cioè di quegli libri, con quelle grandissime raccolte di canzoni e accordi, che dovrebbero essere uno strumento di aiuto per chi sta iniziando a imparare lo strumento di arma. Invece sono una grandissima arma ad occupare. La riprova è che le richieste sono su internet, riguardo spesso proprio l'utilizzo di canzonieri, le persone in sostanza, io l'ho occupato, ho guardato tutto il tempo, non riesco a costruire la canzone. Poi ci cerchiamo di dire che per te, di provare a dubbiare quello che vuole. Vediamo come fa il canzoniere. Se guardiamo la pagina del canzoniere, qui è qui il testo, di sopra al testo, quindi gli accordi. Quindi la prima versione che io ho con il canzoniere è che il testo comandolo e gli accordi devono seguire il testo, il testo, il testo, il passo. Vediamo che il testo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.